Signor Presidente della Repubblica, le siamo molto grati per aver voluto ricevere la delegazione dei Presidenti e dei rappresentanti delle Accademie Nazionali dei Paesi del G7 e anche delle più rilevanti associazioni accademiche internazionali. Ancora una volta, lei ha dimostrato quanta attenzione riserva alla scienza, alla cultura e al ruolo che le Accademie svolgono nel sottoporre all'attenzione dei Governi le questioni più rilevanti del mondo contemporaneo e le possibili soluzioni proposte dallo sviluppo scientifico. Sono davvero molto lieto di poter incontrare rappresentanti delle Accademie delle Scienze dei Paesi del G7 e delle associazioni internazionali delle Accademie delle Scienze. Accademie che ciascuna delle quali nel suo Paese, nel proprio Paese, è chiamata a svolgere funzioni di custodia e anche in qualche modo di garanzia della scienza. È un compito prezioso che si sta esprimendo in questa occasione con suggerimenti e considerazioni per la riunione e per l'incontro del G7, ormai imminente. È un motivo di riconoscenza, quindi, che mi induce a ringraziarvi per il contributo così importante a questo incontro a Presidenza italiana, nella speranza che suggerimenti e considerazioni delle Accademie delle Scienze vengano raccolte integralmente, non soltanto dal G7, ma nella più ampia cornice, poi, del G20 e in quella dell'intera comunità internazionale. Gli argomenti che il Professor Antonelli ha poco anzi indicato e illustrato sono tutti di grande importanza. Dall'avviso di allarme per gli armamenti nucleari, con un imprevedibile ritorno alla minaccia di adoperarli, accompagnata dalla ricerca a definizione crescente di nuovi armamenti, degli effetti sempre più dirompenti e conseguenze sempre più crudeli. agli aspetti che riguardano la vita sociale nell'umanità, dalla sicurezza alimentare alla tutela della salute, alla considerazione delle diseguaglianze sociali e della povertà. Condizioni di povertà e diseguaglianza gravemente e altamente presenti tuttora è per qualche aspetto in aumento anche nei Paesi sviluppati. La raccomandazione e le considerazioni riguardo alla intelligenza artificiale, tema affascinante che ripropone il costante interrogativo all'umanità rispetto alle opportunità che la ricerca scientifica offre con i suoi avanzamenti, con la sollecitazione che nella indicazione è poc'anzi illustrata dal professor Antonelli, che se ne faccia un uso positivo e si eviti uso distorti, negativi, pericolosi. Ma questo, come sappiamo, nella storia è sempre stato presente, questa alternativa. la scienza offre opportunità straordinariamente grandi, tocca poi all'umanità, alle sue istituzioni organizzate, farne l'uso migliore. E infine l'argomento che li raccoglie tutti è il patrimonio culturale, che è come il giacimento di saggezza dell'umanità. Ed è, professore, l'andamento dei rapporti tra l'umanità e la cultura somiglia all'oscillazione di un pendolo. Quando il pendolo si allontana dal patrimonio culturale, emergono, come appare in questa stagione nel mondo, tentazioni di scontri, contrapposizioni, guerre, violenze, indifferenza alle ragioni altrui. Quando il pendolo si avvicina al patrimonio culturale, l'umanità si indirizza verso strade di progresso e di benessere, di serenità, di pace. E quindi l'auspicio che io esprimo, ringraziando molto l'Accademia per questo importante contributo, e che non soltanto nel G7, dopo credo che sia prevedibile, a questo avvenga, ma nel G20, nell'intera comunità internazionale, si accolgano queste indicazioni, perché il pendolo rimanga sempre vicino al patrimonio culturale. Garanzia per il futuro dell'umanità. Grazie e auguri per la vostra attività. Grazie. 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 Grazie.